Dopo un primo tentativo in una vetrata più piccola sono riusciti a distruggerne un antisfondamento. Si sono introdotti nel locale, hanno sportato tutto ciò che conteneva la cassaforte e poi sono fuggiti indisturbati. Questa volta i ladri hanno preso di mira il ristorante Chi sei a Sassonia di Fano. Ad accorgersene è stato il titolare quando mercoledì mattina intorno alle 10.30 si è recato al ristorante per eseguire lavori di manutenzione ordinaria. Ma pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Nella nottata qualcuno si è permesso di entrare, sfondare i vetri e rubare dentro anche perché qui agiscono indisturbati. Non ci sono telecamere come hanno già messo a San Lazzaro e altri posti di Fano. Non c'è sorveglianza, non c'è nessuno, è pieno di gente sotto i giardini a gara come ho già detto in precedenza che bevono, litigano. Abbiamo già avvisato le autorità anche gli anni pressati ma nessuno si è fatto vedere. E niente, questi sono i risultati. Che cosa sono riusciti a rubare? Hanno portato via dei soldi dalla cassaforte, hanno portato via un computer portatile. Fortunatamente altri danni non li hanno fatti oltre quelli che già vedete con la telecamera. Tra l'aria furtiva e i danni che hanno creato la struttura siete riusciti a quantificare più o meno il danno? Sì, perché la struttura questa è nuova, perciò sappiamo già quanto costa con i prezzi attuali, è sui 5-6 mila euro di danni, più una ventina di mila euro in soldi. Grazie. 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 Grazie.